per fare una buona orchestra servono ottimi musicisti ma soprattutto affietamento se ognuno suona per conto proprio addio l'inter è un complesso di simpatici simpaticissimi soprattutto per gli avversari tre sconfitte nelle ultime quattro partite tanti solisti niente squadra a san siro l'atalanta fa un'autentica passeggiata sonetti può permettersi il lusso di tenere a casa cantarutti e peters tanto i golli fa fulvio simonini 24 anni cannoniere in c2 finalmente titolare dall'inizio c'è inoltre uno dai piedi buoni donadoni a fornire palloni preziosi ma soprattutto c'è l'orchestra l'inter ha una panchina miliardaria l'orieri collovati bredi cucchi e selvaggi la novità è marini detto la coscienza nerazzurra il vecchio soldato gioca libero a centrocampo tardelli fanna mandorlini e baresi ruminighe ed altobelli vengono tampinati passo passo da osti e gentile mentre gli atalantini perico e prendelli fanno lavoro di sbarramento e rilancio l'inter rimedia solo questa occasione da gol che costringe a salvataggio il bravo soldato poi i pasticci difensivi nerazzurri danno la possibilità all'atalanta di passare due volte in dieci minuti vediamoli questi gol di simonini saltano fuori gli errori di zenga e compagni sulla seconda rete è molto abile il cannoniere atalantino a battere tutti sul tempo e il crollo verticale delle velleità interiste praticamente non c'è più partita e visto che l'ammalato non reagisce corso torna all'antico bredi regista tardelli fuori mandorlini libero e marini a centrocampo nell'intervallo marini esce e corso brucia la seconda sostituzione entra cucchi guardate cos'è il destino marangon si fa male subito distorsione al ginocchio e problemi di menisco e l'inter così resta in dieci per l'atlanta ben disposta sul campo e come sparare sulla croce rossa così donadoni sfugge ai nerazzurri sbilanciati in avanti e ferri lo mette giù e il rigore del 3 a 0 che soldan non fallisce piotti festeggia il suo rientro con questo bellissimo intervento poi per una spinta di gentile ad alto belli redini decreta il penalti romenigli ha la possibilità di segnare un gol platonico romenigli è un momento difficile per l'inter tre sconfitte in quattro partite in due parole cos'è questa crisi perché è difficile a capire la nostra serie a negativa come lei già detto e tre sconfitte in quattro partite sono un po troppi per una squadra come la nostra dobbiamo stare attenti perché siamo ultimamente siamo veramente in discesa come ho già detto adesso dobbiamo stare attenti perché abbiamo 18 punti e le squadre che sono in sono abbastanza bassa in classifica hanno hanno anche 15 quindi un momento veramente dove dobbiamo stare attenti simonini due gol a san siro sarebbe mai aspettato sognato sì me lo sono sognato tante volte anche uno solo oggi ne sono capitati due abbiamo vinto addirittura la partita sono molto contento